E salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Che cazzo è successo? Oggi siamo su Play With Me Oggi siamo su Play With Me Che è un gioco horror Che forse potrebbe essere bello Non so Oggi andiamo su Ehm Ah buongiorno lei è bello proprio Allora Che bello mio piano Che bello Che giocare a cosa Graturismo Che cosa giocare Oggi basta non guardare Qua slenderina è bello Ma muore di madre Vabbè ragazzi Non ho capito quasi nulla però Siamo qua Questa cosa E mi ricordo che ragazzi Mi ricordo che in sto gioco Dovevo prendere delle candele Perché io lo conoscivo da qualche Ma crepa Do Che è successo? Certo Sì 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 Ma non è a rischio Il computer sta bene Non è sta bene Allora Come si prea Come si prea Madonna come si prea Madonna come si avevano brutta le porte Ragazzi Può correre? Può saltare qualcosa? No perché Cosa migliore Lo riso No 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 Andato Vabbè Come si appena raga che rumore fanno la porta Tremendo raga non lo voglio più Bello Sembra uno schermo di televisione Giuseppe Che invece è un Non so parlare Mettendo in un Specchio Che bel posto ragazzi Ma io non mi posso buttare dalla finestra Buttarmi dalla finestra No Guarda Buttarmi dalla finestra Mi salvo Almeno sto qui Gli faccio il capo Beh Oh Oh no 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 Guarda Guarda Murta tu sword Raga Non ho capito Ma fa culo Ma se prima è Ma se tre secondi fa E' davanti a me E poi sei E E' là fuori E come cazzo è così Che sei Goku Che sei se le trasporti Che sei Goku Che sei se le trasporti Ma la porta Allora Se la smetti magari di andare in giro Per casa mia Pervertito Spronzo Buongiorno Allora Se la smetti di passare In questo modo Oppure no Ma raga Ma compare troppe volte Candela numero dodici Andiamo a Alessandro E andiamo Ragazzi Ah La televisione è lì Mostra i denti Migliori del mondo Per vedere Ma ciao Oggi Guarda X Factor X Factor Accenditi Non ci E' l'X Factor Allora Allora E Posso una porta Non uscita Posso uscire Beh Era ovvio Che era bloccata Ma è forte Mamma Mamma mia Che bella Macchina Dele minchia Ma tu c'è Ma Un garanzio Si garanzia E' questo Scusate Minchia numero 20 Ragazzi Vabbè Ammazzo Io Pagliaccio Buongiorno Vabbè Eh Non lo perdere Ragazzi Andiamo a avanzo Sta bella Cagata Vabbè Ma È un bel gioco Devo dire 2008 Vabbè Bello Che manca Che superi Su veramente Dov'è la nutella Vabbè Non copiamo Dov'è Dov'è Ciccolato Vabbè Basta Andiamo avanti Sto posto Di mierda Non ci voglio andare Di qua Chiudi 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 Di qua Broccata Fanculo Forse Di qua No ma Ma questo Dove lo Io Prima No Mi Il culo Ma Lo scopo Io Di queste Parle Allora Perché Allora C'è Lo sto Clown Che mi rompe Le palle Può Sapere Qua No Allora Raga Eeeh Faccio sempre giochi horror Su sto canale C'è solo giochi horror Lo faccio Però Poi non è andata Di sopra Vediamo se Forse Non è esplorato Di sopra Non è esplorato Non lo so Raga Infatti forse Non ci sono andato Ste porte No Ci sono andato No mi ricordo Non facciamo Quello che faccio Io Oh Candela Paolo Tibala Numero Dieci Candela Dieci Si va bene No 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 Devo suonarlo Ok Chissà se parta la canzone Su SEDMOS Ma a finire che ha parto la canzone Su SEDMOS Non ne frega niente Perché sto suonando Allora Eeeh SEDMOS Che ne vado Ciao 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 SEDMOS Ci sono andati Vittuto pure Morito E' Raga Fanno un rumore tremendo Le porte Non posso Sono andato di qua io No Abbiamo una bella stanza Con un letto Che fa schifo Allora ragazzi Prendiamo questa Chi è che fa casino Devo controllo una cosa ragazzi Quanto siamo Ah 6 minuti Vabbè Non so Devo controllare quanto siamo Perfetto Ma chiuso dentro Sto piaccio Ammazzare la famiglia Ah Non so Nave Allora Forse devo aprire qualche porta Forse questa No No Non ti apre Questa è una messa antiniziale Giusto Porta segreta Porta segreta Addirittù Ma sembra la porta del piano Ma vaffanculo Ma c'è una chiave Sfruttala questa chiave Tizio Sfruttala questa chiave Non so Quello che devo fare A questo posto Del tavolo Io Che posso di merda Perchio Ci sono delle finestre Sobre l'armadio No Ragazzi Che bello Ci ha Bug anche Guardate Ma perché Vabbè Non ho capito Quello che devo fare Ancora Però Andiamo avanti Stacazzo di merda Il fuoco È realistico Al massimo Cioè Realistico Il fuoco Proprio Ehm Cosa è la televisione Noi Andiamo in giro Stacazzo del cazzo Vabbè Tanto noi Abituati Vabbè Ehm Questa è la casa È la porta per uscire Non posso muovermi Ragazzi Quando vado qui Non posso muovermi Come mai? Eh Vabbè Vabbè Vaffanculo 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 Merda No Ma cosa Che gioco di merda Che cagata era Ma che cazzo di finale era All'ultima di Castle of Night Però ragazzi Poi vedrò se si potrà fare Poi ci sono Baldis Basic Che non so se lo farò Però vabbè Direi che possiamo concludere qui Con il video del gioco Play With Me Ha fatto schicci Ragazzi è stato un bel gioco horror Però ragazzi alla fine finisce anche male Però vabbè Sembra che questo gioco vi sia piaciuto O è piaciuto quello che vi sia piaciuto In questo video lasciate like Iscrivetevi e commentate Vi devo dire una cosetta ragazzi Non trova bocati per me è una bellissima Bellissima Vi devo dire ragazzi che Io domani andrò all'acquapark Odissea 2000 Anche se non so se lo conoscete Va vabbè Io farò un video appunto Sull'acquapark Solo questo Quindi allora ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi